se vi piace questo siete nel posto giusto sono tiziano 7 e sono videomaker e io sono Paolo un viaggiatore mi piace scoprire posti nuovi e dare tips utili ai viaggiatori come me e adesso cominceremo una nuova avventura ciao Pablo quei zizi com'è bene dai tutto bene ma io sono qua davanti al computer a guardare un po' di nuovi profili interessanti eh ma hai guardato il link che ti ho inviato ti ho girato il link non so se l'hai visto su whatsapp ok adesso vado a vedere eh un piccolo itinerario usavo qualche giorno fuori casa ciao 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 ciao